L'aspetta di tutto questo successo di questa associazione è nata in un momento così delicato però insomma è nata così importante per questa società, per questi valori Bravo, bravo, bravo Grazie Abbiamo chiesto delle piccole cibre, abbiamo chiesto delle piccole cibre, abbiamo visto che l'associazione albergatori ha reagito in maniera molto brevita e è stata una delle azioni più cocenti che abbiamo avuto con l'associazione Nel 2014, il prossimo anno, qual è l'obiettivo dell'associazione Alessandro? L'obiettivo dell'associazione è di stare vicino all'aspetta del calcio e eventualmente entrare anche all'interno del capitale sociale dell'aspetta del calcio sono dei punti che stiamo cercando di affrontare con il Presidente Monito e chiaramente abbiamo un obiettivo principale che è il settore giovanile abbiamo un programma con il settore giovanile di tre anni che dobbiamo chiaramente rispettare e cercare di promuovere nel miglior modo possibile ringraziamo il Presidente Guido 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 ringraziamo il Presidente Guido